E per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono VoiltPro e oggi ragazzi siamo tornati sulla demo di FIFA 18 per fare una partita Juventus contro Real Madrid in una difficoltà molto 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 difficile che è sapete già leggenda 4 minuti, si, fare gioco cartellini, fallo di mano, si, totisoli si, atmosfera, vai, ok ragazzi siamo pronti per fare questa benedetta partita, non so come andrà a finire quindi spero bene, quindi mi dovrò impegnare, ho fatto una partita prima ma è andata un po' male, ho perso 2 a 1, sono sempre le stesse squadre, quindi ragazzi diamoci dentro e vinciamo la partita! nooo ma che è? dai dai che dirà, dai che dirà, dai che dirà, dai che dirà, dai che dirà! no ragazzi ecco primo gol primo gol della partita grande chiello manda a Berna vai Berna c'è vai vai Rick oh sarà anche fuori eh è uscita tutta la palla eh cane dell'era cane bravo Douglas bravo Douglas è panzerotto ok oh no Berna deschi no tanto nel secondo tempo sostituisco un quadrado perché mi viene di sicuro la sostituzione è soggiorita ma no ma no torniamo 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 a tutti i costi bravo bravo volante Berna vai Dipo vai 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 grande 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 Pjanic vai Pjanic allarga per Berna Berna vai dentro vai per Douglas vai per Douglas va bene va bene raga va bene ci siamo dentro vai Sami va bene Sami vai 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 Douglas vai Douglas grande Pjanic grande Pjanic 1 a 1 dai raga è fuori gioco dai raga dai 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 raga fermalo 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 ande chello bravissimo vai per Alex vai Alex vai vai Alex vai Alex no ok parte Berna vai Berna grande Berna non è faro dai palla piena vai Pjanic è tua finito il primo tempo ora Berna mi spiace mi va in panchina potrei fare anche con deciglio ok vai Iguain vai Douglas vai che la pilli vai che la pilli dai chiello dai chiello no 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 ande Sammy vai Sammy vai Sammy vai no no Diba vai Alex tua vostra qualcuno bravo bravo Randy Douglas no vai Sammy è tua grande vai che ci arrivi ah è nostra quanto rischiato grande vai Alex c'è di bala di bala vai di bala vai no 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 Paolo ande Matti no no nostra 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 raga dai 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 bravo Sammy grande Alex grande Alex se vinco contro la leggenda sono grande sono grande vai Sammy vai Sammy così vai per Douglas va bene Douglas non ti preoccupare va bene va bene vai Alex vai Alex via bravo Matti ok calmo gira per Alex no che ha sbagliato no che ha sbagliato no dai bene tu dai quello il culo butta lassù ok no va bene Diba va bene va bene mostra andiamo dalla scosta a Mandic no diba la prossima di due che c'è va bene va bene tanto è giallo oh eh e anche vedere ma Douglas sta giocando bene non lo cambio no si tirava del palino con il sinistro vai Douglas ti voleva anche sostituire ande Alex vai Alex in mezzo a panzerotto no ragazzi che è finita vai giuriamo altri 30 secondi dai ragazzi ti vedete l'ho guffata l'ho guffata l'ho guffata l'ho guffata dai dai Douglas dai Douglas si va chiedendo si raga andiamo andiamo raga andiamo e ragazzi questo video si conclude qua spero l'avete piaciuto condivide condivide con i vostri amici questo video spolliciate mi raccomando e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video bella ciao